Siamo arrivati alla sesta puntata della serie Halo, in onda su Sky ogni settimana e reperibile su Nao, Halo Darkness My Old Friend. Ecco, dietro la macchina da presa torna ad esserci Jonathan Libesman, io adesso parlerò di questo sesto episodio con spoiler, quindi nel caso non l'aveste visto recuperatevelo e poi tornate ad ascoltarmi. Diciamo che le vicende si complicano in quanto dopo un quinto episodio molto incentrato sull'azione, in tanti la desideravano. Dov'è l'azione? Dov'è l'azione? C'era stata molta introspezione dei personaggi, si giocava sulle caratterizzazioni di questi protagonisti, del nostro Master Chief, del nostro John, della dottoressa Elsie e poi c'è Cortana. Il quinto episodio, che per me è uno dei minori di questa prima stagione che stiamo vedendo, il quinto episodio comunque ci regalava momenti d'azione molto ben girati. In questa sesta puntata si torna a quella voglia di approfondire psicologicamente i personaggi che io tanto apprezzo. Da un lato abbiamo la nostra Maki, che mettendosi d'accordo con i Covenant, ricorderete, si faceva lasciare sul terreno di Eridan per farsi prendere dagli Spartan, anche perché seppur lei possa essere d'accordo con i Covenant e vada quindi ad inventarsi che sia stata rapita quando era bambina, che sia sempre stata tenuta prigioniera, è molto interessante vedere questo rapporto che va a concretizzarsi con John, con il nostro Master Chief che innanzitutto non ne può più della dottoressa Elsie, dopo che scopre determinate cose relative alla sua infanzia, già stava per ucciderla una volta. Stavolta ancora di più la rinchiude in questa stanza con il gas che sta per ucciderla e poi mettendo alla prova Cortana alla fine la salverà, però diciamo che la dottoressa Elsie non passa un bel quarto d'ora. Fatto sta che scopriamo che tra Maki e il nostro John ci siano delle similitudini, entrambi sembrerebbero benedetti, anzi la nostra Maki parlando con John gli rivela che lei stessa viene chiamata la beata e che potrebbero esserci delle similitudini fra i due ed infatti inizieranno a fare delle analisi i nostri due protagonisti dei test medici che poi confermino che entrambi abbiano questa serie di somiglianze a livello genetico. Poi dall'altro lato abbiamo sia Kai e John che si sono tolti il microchip, lo sapete, quando si sono resi liberi, questa cosa ha influenzato il consiglio. Così Margaret decide innanzitutto di licenziare la dottoressa Elsie e di mettere a capo anche di Spartan, di Cortana insomma di questi studi che stanno facendo anche sull'intelligenza artificiale Miranda che fra tutti è uno dei personaggi a mio parere di cui ci si possa fidare perché la dottoressa Elsie per quanto tenti di arrampicarsi sugli specchi in questa puntata scopriamo che sì in effetti tanti bambini non solo John vennero rapiti ai tempi per poi addestrarli come dei super militari, dei super soldati, degli Steve Rogers della situazione per poi sostituirli visto che non dovevano creare sospetti con dei bambini malati di cancro, con malattie terminali che cercavano di potenziare ma molte volte questi potenziamenti portavano alla loro morte. Quindi caspita una bella doccia fredda per il nostro John che scopre una realtà, una verità disarmante. Solo che la dottoressa Elsie farà il possibile nonostante venga messa da parte per tornare in gioco. Mi piacerebbe sapere come svilupperanno il rapporto tra Maki e il nostro John perché per quanto Maki possa essere in combutta con i Covenant e tra virgolette io continuo a dire che anche i Covenant dovranno raccontarci qualcosa perché secondo me non sono i cattivi. Lo dico da inesperto del videogioco ma secondo me anche essi hanno avuto le loro ragioni per comportarsi in determinati modi perché anche gli Spartan e questo consiglio che porta avanti le missioni dello Spartan beh qualcosa sotto sotto deve nascondere. Però indipendentemente da questo in questa puntata non si fa riferimento a One A quindi non sappiamo cosa stia succedendo su Madrigal. Questo è un aspetto che secondo me non è stato gestito benissimo perché già nel quinto episodio si faceva riferimento alle vicende su Madrigal per un attimo con questo scambio di prigionia fra i due. Prima lei imprigionava lui, prima lui imprigionava lei poi lei imprigionava lui insomma su Madrigal si è lasciato un attimo perdere cosa stia accadendo. Magari nella prossima puntata ne parleranno. Devo dire però che si continua a unire bene questa introspezione ad un'azione che potrebbe sembrare latente ma che poi quando arriva da un momento all'altro riesce a soddisfare e a colpire. Parliamo del fatto che si nomina espressamente Halo. Si nomina Halo, bisogna raggiungere Halo, si parla della potenza di questi artefatti su John ma allo stesso tempo la tecnologia ha un potere particolare anche sulla nostra maquis. Che siano veramente due persone che da nemiche diventeranno amiche, bisogna capire chi continuerà a fare il doppio gioco, quali dinamiche interessanti potrebbero sviluppare. Anche Cortana che inizialmente pensavo potesse essere il classico esempio di intelligenza artificiale che prendesse il sopravvento sugli uomini, sull'umanità, devo dire che a parte è realizzata con una CGI splendida, però devo dire che effettivamente potrebbe essere d'aiuto invece. Non so dove si possa andare a parare, mancano solamente tre episodi alla fine perché se non ricordo male gli episodi saranno dodici, ma non vorrei dire una stupidaggine, sì nove episodi, nove episodi, se non sbaglio gli episodi saranno nove, ho detto dodici, vabbè vedete sono proprio fuso, mi sono tolto il microchip anch'io e quindi non so più cosa stia dicendo. Ho visto che sta avendo molto successo, molti abbonati in più grazie ad Halo, mi fa piacere, mi fa piacere per quanto lo sapete non è il mio genere di serie, io lo ripeto fino all'esaurimento, fantascienza, fantasy, ma specialmente il fantasy così come l'epico alla Game of Thrones o cose di questo tipo, mi prendono sempre difficilmente o perlomeno mi avvicino difficilmente, poi se sono ben fatte mi prendono come ad esempio mi ha preso il Signore degli Anelli e tanti altri grandi capolavori della storia del cinema, però ecco mi sono avvicinato ad Halo perché vedendo il primo trailer mi ricordava The Mandalorian e effettivamente The Mandalorian che che ne dica il pubblico a me piacque molto, quindi non è Halo una di quelle serie che non vedo l'ora di vedere del tipo non vedo l'ora arrivi il giorno in cui esce il nuovo episodio per spararmelo, me lo posso vedere con la massima calma, infatti come state vedendo do prima priorità ad altro, però mi rendo conto che se non l'avessi vista mi sarei perso un qualcosa di valore, un qualcosa di ben fatto, quindi era sensato parlarne, non mi piace chiudermi a riccio senza andare incontro a quei prodotti che su carta mi dicono poco e anche se è un genere a cui mi avvicino sempre con un po' di pesantezza, poi riconosco di di apprezzare ciò che mi stia raccontando anche questa serie, non mi fa strappare i capelli del tipo mamma mia come potrebbe non lo so una serie dell'MCU o quando c'è stato proprio ultimamente su Sky Cristiano a casa tutti bene la serie o altri prodotti, però è questione di soggettività. Fatto sta che io continuerò a parlare volentieri di Halo, per quanto per me gli episodi migliori continuino ad essere i primi quattro, il quinto e il sesto sono minori a mio parere ma è puro gusto soggettivo, vediamo dove andremo a parare, io vi attendo nella sezione commenti, fatemi sapere la vostra, grazie per ascoltare le chiacchiere di questo giovane ignorante per quanto riguarda il videogioco ma che ne parla comunque perché come dico sempre non per forza bisogna conoscere il materiale d'origine per recensire o parlare di qualsiasi cosa altrimenti io non potrei parlare della Marvel in quanto non leggo fumetti. Vi abbraccio, vi saluto, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale, poi ieri YouTube mi ha detto Paolo lo sai che sono attivi i super grazie, i super grazie o che sono i super grazie, praticamente se voleste fare una donazione spontanea per sostenere il canale, troverete qui sotto super grazie, grazie ora non lo so, se ci cliccate il vostro commento verrebbe messo in evidenza e sosterreste il canale con una donazione, quindi una possibilità in più che mi dà YouTube, io lo ringrazio e che dire, vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video, vi attendo nella sezione commenti e alla prossima, hallo!